Nell'ambito della ricerca, della didattica e in ambito della fisiologia umana e dell'esercizio all'interno della scuola di scienze motori della nostra università, noi ci occupiamo degli effetti dell'esercizio fisico non solo in ambito sportivo, ma anche in ambito preventivo e adattato, per esempio la somministrazione di esercizio fisico in popolazioni particolari come possono essere la popolazione dei bambini, delle donne in gravidanza, piuttosto che in situazioni patologiche, croniche oppure in soggetti, in individui che vanno incontro all'avanzamento dell'età e quindi al fenomeno dell'invecchiamento collegato a sarcopenia, cioè perdita di massa muscolare. L'esperienza che vediamo noi, come in tantissimi altri centri di ricerca del mondo, è che l'esercizio fisico possa indurre dei benefici a livello di varie cellule, vari tessuti, organi e apparati per cui un invecchiamento sano si dice che debba iniziare fin da bambino. Un modo di dire in ambito dell'invecchiamento è che non ci siano diverse età, ma che ci sia una sola età per cui per arrivare in età avanzata con una situazione più possibile di benessere bisogna cominciare fin da piccoli a fare esercizio fisico. È molto difficile incontrare persone che decidano di iniziare un'attività fisica sportiva a 80 anni, 70 anni, è molto più facile invece proseguire un'attività fisica che si inizia fin da quando si è piccoli. Se si riesce compatibilmente con le situazioni familiari, lavorative, personali, a proseguire un'attività fisica anche se non sportiva, magari solo ricreativa lungo tutte le decadi dell'età, ecco che si può arrivare a 70 anni, 80 anni e anche oltre con una situazione di salute e di benessere migliore rispetto a una vita sedentaria. Teniamo presente che il nostro organismo non è fatto per stare fermo, il nostro organismo è fatto per muoversi, per correre, per lavorare, per fare, quindi con un stile di vita sedentario noi andiamo contro quello che è la funzionalità normale del nostro organismo e in effetti con una vita sedentaria si vedono i danni provocati a livello cardiovascolare, a livello respiratorio, a livello osteomuscolare e così via. Decisamente l'esercizio inizia e finisce nella testa, nel cervello. Bisogna decidere di fare esercizio fisico, bisogna arrivare a dosare un esercizio fisico in maniera ottimale, quindi usando sempre la testa. A noi piace dire che la somministrazione è come la somministrazione di un farmaco, se dosato correttamente da persone competenti non può che fare bene, se invece somministrato da persone che non hanno conoscenza o competenza, così come un farmaco anche l'esercizio fisico può arrivare fino ad uccidere, quindi chi decide di iniziare o riprendere un'attività fisico sportiva, sicuramente deve fare una visita medico sportiva in collaborazione con il medico di famiglia per poter capire e conoscere il suo stato di salute e se può riprendere o iniziare a fare attività fisica. Poi nella nostra università, noi in tutta Italia stiamo laureando studenti di scienze motorie che sono le persone, i professionisti più competenti per somministrare questo tipo di terapia non farmacologica. Il laureato di scienze motorie in accordo con il medico sportivo sono le due figure preminenti a cui riferirsi per evitare di farsi da soli danni con esercizi mal effettuati e mal dosati.